ciao a tutti bentrovati la partita che vi propongo una partita siciliana io con il nero si gioca sempre qui sull'ics dopo e4 gioco c5 sul cavallo f3 decido di giocare cavallo c6 che in realtà è anche la mossa più frequente sulla cattura centrale sviluppo con il cavallo in f6 per provocare questa cavallo c3 che è chiaramente una mossa che evita la spinta c4 che ovviamente è un percorso molto interessante da parte del bianco il tipico sistema maroxi quello che cerco di impostare adesso è uno schema molto particolare quindi cercare di fianchettare quanto prima mi aspetto forse un'impostazione con arrocco lungo non è così cercare di fianchettare quanto prima forse qui ho cavallo g4 se non sbaglio cercando di avere poi un controllo al centro lui mi cattura io catturo ok su questa riprendo al centro probabilmente arrocco no siamo ancora in piena teoria e questa alfiere glielo prenderò e se mi cattura qui poco importa perché poi dopo i cambi avrò donna a5 quindi secondo i miei calcoli per adesso non può catturare questo pedone un pedone in a7 lì al bordo della scacchiera che potrebbe essere comunque sia un'ottima tentazione per lui nel cercare di catturarlo se alfiere per a7 quindi se alfiere per a7 ciò che si verifica è che su pedone b6 quell'alfiere resta in trappola settore per a7 cambio quindi pedone b6 ad ogni modo mi serve anche a me un controgioco lui si sta già pronunciando con l'idea di giocare h5 per sfianchettare e creare il tipico tema di attacco da matto quindi mi serve una reazione centrale che possa neutralizzare oppure rallentare il suo attacco laterale f5 e per quanto sia strana per competone dell'arrocco in realtà potrebbe aiutare in difesa perché porterà la torre la torre in f7 molto utile e quindi in caso di sfianchettamento torre f7 potrebbe essere la mossa che salva perché con la torre in g7 sicuramente non mi darà più matto oppure in alcuni casi poter proseguire con f4 o il tentativo di creazione di controgioco attraverso la cattura in e4 ovviamente vi dico che da nero potevo evitare di subire quest'attacco diciamo laterale lui di fatto ha fatto due mosse consecutive di pedone e queste due mosse consecutive di pedone potremmo neutralizzarle attraverso probabilmente un h5 oppure una reazione un po più forte verso il centro della scacchiera la partita continua ok il tempo dice 20 secondi di differenza in un momento in cui il mio avversario sta pensando parecchio e questo è sinonimo che sta cercando il piano corretto sta cercando di indirizzare il gioco verso un binario a lui più comodo una posizione con arrocco corto mi darebbe in mente l'idea di giocare f4 nel caso di cattura non è da escludere anche un possibile sacrificio di qualità che vorrebbe dire controllo assoluto delle case nere la partita continua cambio in g6 devo riprendere al fire h6 la mossa più frequente la mossa logica in questo momento dopodiché le continuazioni realmente sono due la prima torre f7 in caso di cattura riprendo di torre difendo tutto la seconda mossa un po più impegnativa e chiaramente le mosse impegnative sono quelle che creano uno squilibrio materiale la seconda mossa è senz'altro spostare all'alfiere cedendo la torre quindi cedendo la qualità ma a cambio avere un controllo forte delle case nere non è ancora chiaro cosa vorrà fare lui questo real centro potrebbe essere e diventare sinonimo di attacco di tentativo di attacco del nero lì al centro della scacchiera attraverso qualche apertura non so bene quale oppure sinonimo di controgioco con il tipico attacco e sulla casa c3 la partita prosegue direi che torre f7 una mossa che va giocata in caso di cattura la torre purtroppo andrà in una posizione un po passiva se il mio avversario deciderà quindi di non catturare in g7 l'alfiere potrei nascondere l'f8 e qui campanello di allarme qualcuno si sarà accorto che quando sposta l'alfiere ci sarà il matto in h8 quindi quell'alfiere è importante così come è importante chiudere e mantenere chiusa la diagonale del bianco la partita prosegue ok arrocco lungo tipico quindi se un giocatore arrocco a destra l'altro arrocco a sinistra e siamo in una situazione che si chiama chiaramente arrocchi contrapposti portare una torre indirettamente o meglio anche direttamente contro il re avversario è senz'altro una buona scelta sinonimo di attacco punto il re avversario quindi voglio cercare di dargli fastidio e vediamo un po come possa proseguire se il cavallo salta al centro potrebbe essere un problema se non fosse che sono già pronto a eliminare quel cavallo con il mio alfiere quindi in questa posizione direi che ancora tutto da giocare tutto in discussione sfruttando il fatto che questa torre un minimo di controgioco sul re lo crea e questo tema di ingresso sulla colonna a potrebbe essere quel momento in cui io attacco i suoi pezzi vadano indietro e a quel punto chiaramente se io attacco i suoi pezzi vanno in posizione passiva non sarò attaccato e quindi è una situazione a me comoda la partita continua intanto lui più pensa meglio è considerando anche che sono partita 10 minuti senza incremento quindi nella parte finale potrebbe soffrire il fatto di avere molto meno tempo rispetto a me allora se io catturo dirà perdo per non h6 quindi la cattura di torre è obbligata e su donna h6 la difesa sarà con f7 ci trinceriamo difendiamo dietro i nostri pedoni e a quel punto non riuscirà ad attaccarmi se l'obiettivo di questi contenuti e cercare di raggiungere un punteggio ambizioso quali i 2700 punti significa che durante il nostro cammino durante il mio cammino questi giocatori con 200 punti o quasi in meno devono essere tutti battuti il bianco dovrebbe aprire la posizione e pedone per f5 mi sembra molto forte collegando all'idea che in caso di cattura di alfiere potrebbe avere un'incursione nella casa d5 o con la donna dando scacco o con il cavallo semplicemente cercando di creare facili avamposti e anche lì la presenza della torre in c8 fondamentale se giocate la siciliana il vostro avversario è rocca lungo una torre deve andare in c8 la presenza della torre c8 fondamentale perché cercherà il controgioco sul punto c2 la partita prosegue qui direi che donna 5 è molto forte sto creando una tattica scacco cavallo difende alfiere per b3 questa è la tattica che sto cercando di creare dunque se lui mi cattura in d6 non dovrei aver problemi nel cercare di puntare questo attacco sul lato di donna attraverso appunto l'incursione con donna 1 vediamo se ho calcolato bene perché difatti scacco il alfiere per b3 sembra essere forte lui è un controgioco poi con intanto questo lo catturiamo ok lo catturo ah ho sbagliato avrei dovuto fare prima scacco perché adesso ora è b1 mi sembra molto forte per lui ok invece così dovrebbe aver perso per ok nuovo errore si donna 1 decisamente migliore donna a1 decisamente migliore prima perché in questa posizione quindi immaginate la donna in a1 io avrei a disposizione alfiere per b3 con un forte attacco doppia minaccia minacciando alfiere a2 e torre per c2 ok mi attacca questo alfiere e ovviamente l'alfiere è importante mantenerlo in gioco se io gioco donna 1 non mi piace che mi gioca questa e a quel punto mi minaccia sia la torre che la donna il mio alfiere è molto importante voglio mantenerlo in gioco vediamo qual è il modo migliore sono stato un po superficiale si donna 1 fondamentale e adesso è difficile la posizione perché lui guadagna il tempo sul punto e 6 settore d7 ci sarebbe una minaccia forte però ciò non riesco a farlo non riesco a giocarla perché donna per e6 sarebbe scacco quindi alfiere f7 sembra la ritirata più saggia f7 guardate che brutta questa torre è molto brutta forse donna h2 potrebbe essere una scelta per lui minacciando matto in h8 sì questa ritirata di alfiere è brutta però necessaria in un finale ipotetico e due torri e cavallo contro due torri alfiere il fatto di avere un pedone in meno potrebbe non essere decisivo perché la posizione è molto aperta e io ho l'alfiere contro il cavallo ad ogni modo in questa posizione soffro un po' per la sua iniziativa ok questo scacco adesso che succede scacco via donna per b2 va bene lo scacco dobbiamo darlo donna per b2 è forte ok su questa è un po' come la variante di prima forse migliorata perché ho alfiere per b3 eh sì alfiere per b3 sì è esattamente la variante di prima peggiorata per lui perché magari questa torre poteva essere utile sulla traversa minaccio matto torre per c2 e donna b1 vorrebbe dire dare matto se mi permette ad esempio se difende con torre c2 il punto con torre d2 il punto c2 alfiere 2 è vincente donna per b1 minaccia matto non può difendere adesso potrebbe anche arrivare l'abbandono comunque vi mostrerò dopo in fase di analisi e questa posizione potevo ottenerla prima per come ha giocato lui sono riuscito a ottenere questa sequenza vincente però è realmente tutto frutto di uno di un errore adesso donna per b1 è vincente su questa in realtà non porta nulla questi scacchi non portano a niente posticipano soltanto la sconfitta ok con questa vittoria si torna sopra i 2000 ancora non è finita non si arrende e questo è un cavallo inchiodato quindi si potrebbe speculare un po' sul tema di matto tipo torre 8 torre 8 minaccio nuovamente donna per b1 e matto perché queste due case le ho appena tolte con la torre ricordate ok è arrivato l'abbandono ricordate che quando avete una posizione favorevole non dovete assolutamente avere fretta di vincere ok allora qui vi dicevo che il punto critico era giocare donna 1 adesso perché sul cavallo per b1 pedone per d6 lui non può giocare donna per d6 per la stessa idea della partita invece quando gioco e questa cattura vediamo cosa propone propone scacco scacco ok quindi in realtà propone questa e la donna inchiodata questa l'avevo considerata però penso che donna per d7 e donna per scacco intermedio cavallo cattura alfiere per questo finale si soffre ok inizialmente non voleva entrare qui però come avete visto poi si è verificata quella tattica che avevo anticipato donna 1 prima sarebbe stato il dettaglio vincente senza controgioco si supera ogni 2530 ciao 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 ciao